Ciao! In questo video vi mostrerò come far vibrare il vostro iPhone quando squilla su iOS 18. Quindi, se avete appena aggiornato il vostro dispositivo a iOS 18 e notate che ogni volta che ricevete una chiamata il vostro iPhone non vibra, permettetemi di mostrarvi come fare. Per prima cosa, aprite l'app Impostazioni sul vostro iPhone. Dovete scorrere verso il basso e cliccare su Suoni e Feedback Aptico. Dopodiché, cliccate su Suoneria. Una volta cliccato, vedrete le opzioni Feedback Aptico in modalità silenziosa e Feedback Aptico sempre attivo. Basta selezionare una di queste due opzioni. Io sceglierò Feedback Aptico sempre attivo, così anche se il mio iPhone è in modalità silenziosa e ricevo una chiamata, vibrerà. Quindi, impostatelo su Feedback Aptico sempre attivo. Se avete trovato questo video utile, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale per altri fantastici video come questo. Grazie per la visione!